Tutto pronto per la festa di fine anno in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, un capodanno blindato sotto il profilo della sicurezza per svariate ragioni. Il decreto minniti da rispettare, i fatti di Strasburgo e quello che è successo nella discoteca di Corinaldo. Ci sarà uno steward o un agente ogni 100 persone, due soli accessi via Margaritone Corso Italia con filtraggi e metal detector, vietate le bombolette spray. Ci sarà un numero di steward concordato con la questura per evitare fenomeni di cattivo uso di sostanze ma anche di alcolici e l'ordinanza di divieto di utilizzo dei botti dentro il centro storico per problemi di sicurezza. C'è stato un vertice alla prefettura di Firenze la settimana scorsa, qui hanno partecipato tutti i prefetti della Toscana e io ero in delega del presidente di Anci Toscana e l'attenzione massima soprattutto per il rispetto delle regole che poi nel caso dei locali si concretizza nella verifica che chi entra, il numero di persone che entrano corrisponda al numero di persone che quel locale può sopportare in funzione del numero di uscite che ha. La festa, organizzata dal Comune assieme all'Associazione Carie Maschi al Mango Music Fest, prenderà avvio alle 21.30. Dopo una prima parte dedicata alle famiglie e ai bambini, fino a notte fonda al via una vera e propria discoteca all'aperto e dopo il brindisi di mezzanotte arriva Pau, il cantante dei Negrita. Aretino che canterà per gli Aretini, quindi sarà un bello spettacolo. E naturalmente il sindaco in testa a tutti a brindare il primo minuto del 2019.